Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1, un chilometro di coda per incidente tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione Roma, prevista neve sul tratto appenninico. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, tratto chiuso tra Popiglio e la Lima in entrambe le direzioni a causa di una frana, sta nevicando sui passi appenninici delle statali toscane. Sulla FIPILI segnalato un veicolo in avaria tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione Pisa, personale su strada tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in direzione Livorno. A causa delle condizioni meteo potrebbero esserci ritardi o cancellazioni nei collegamenti tra Piombino e l'Isola d'Elba. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!